e la chiesa io credo come credeva la chiesa antica sono come uno di quei credenti della chiesa antica capite quindi devi trovare la tua identità la devi trovare naturalmente l'esempio ce l'abbiamo l'esempio di quello che tu devi essere e lo trovi nelle sacre scritture in modo particolare un esempio proprio preciso lo trovi in atti degli apostoli quindi tu devi credere cioè la dottrina la trovi principalmente nel nuovo testamento nelle varie epistole nei vangeli ma tu come persona come devi essere lo trovi leggendo gli atti degli apostoli per vedere come la chiesa si muoveva cosa facevano capite per trovare la tua posizione come personalità e come individualità perché serve questo questo serve perché tu se ti dovessero prendere spostare da un'altra parte arrestare passi gli anni in carcere tu rimarrai sempre un credente capite quindi non devi dipendere la tua vita da credente non deve dipendere dal gruppo che frequenti tu il gruppo lo frequenti perché avete delle cose in comune lo stesso cuore lo stesso sentimento capite quindi si frequentano quelle le persone con cui tu hai uno stesso cuore praticamente e per avere lo stesso cuore devi avere anche la stessa dottrina perché non è difficile non è che noi non vogliamo dialogare attenzione io sono d'accordo a dialogare con tutti i credenti non credenti ai non credenti si annuncia l'evangelo la salvezza i credenti si annuncia in base alla necessità no quello che che di cui che sono che riteniamo che gli altri siano carenti si può dialogare però è difficilissimo avere comunione e camminare assieme e avere un fare un lavoro insieme ecco lavorare nella chiesa insieme con chi non la pensa come te ma non tanto perché è importante come la pensi tu perché il nostro il nostro credo deve essere basato sulle sacre scritture no io quello che credo che dico deve essere basato sulle scritture lo dico io come persona e mi posso sbagliare su qualcosa ma la base di quello che dico dove da dove la devo trarre dalle sacre scritture purtroppo dalle sacre scritture molti dicono di basarsi sulle sacre scritture ma annunziano dicono e credono in cose che non sono vere perché avviene questo ecco quindi qui qui cominciamo a entrare nell'oggetto della discussione perché avviene questo perché avviene questo perché io leggo un passo delle scritture capisco una cosa un altro lo legge e capisce l'esatto contrario eppure solo uno ha ragione non tutte e due perché ad alcuni Dio gli dà di intendere e questo è una cosa assodata lo posso dire sia per esperienza sia perché è scritto così cioè è Dio che ti dà di intendere le cose nella maniera corretta e badate bene non ci sono riguardi personali cioè non è che Salomone che aveva tutta quella sapienza quando si è sviato le sue molte mogli l'hanno sviato cioè non è che è rimasto come prima e no si è corrotto Satana diciamo quando era ancora Lucifero era un angelo di Dio che aveva una sapienza che aveva una sapienza più grande di tutti gli altri angeli no quando poi si è inorgoglito ed ha peccato la sua sapienza si è corrotta non era più come doveva essere prima quindi non solo dobbiamo riconoscere i credenti ma dobbiamo anche osservarli nel tempo perché le persone possono mutare va bene l'abbiamo vissuto in questi mesi le persone possono mutare di cuore e se tu diciamo eri affezionato facciamo un esempio Salomone se io ero affezionato a Salomone come era prima nella sapienza quando le sue molte mogli l'hanno sviato e ha cominciato a offrire sacrifici ad altri dei se io seguivo Salomone perché è Salomone ma prima ha ricevuto sapienza da Dio sì ma prima era prima dopo c'è stato qualcosa che l'ha sviato la scrittura lo dice le sue molte mogli gli hanno sviato il cuore ecco perché la scrittura parla di perseveranza perché bisogna da quando si è nati di nuovo bisogna crescere crescere nella conoscenza della volontà di Dio mantenendo i propri sentimenti puri davanti al Signore proprio cuore deve essere puro non ci si deve inorgoglire non si deve provare odio per qualcuno né invidia né tutte le cose che sono negative le devi bandire dalla tua vita e poi ti devi condurre come dice la scrittura questo è quello che devi fare e oggi oggi e quindi tu in base a tutte queste cose che le basi sulle sacre scritture la tua condotta i tuoi sentimenti la conoscenza che hai della parola la devi basare sulle sacre scritture però sulle sacre scritture anche altri dicono di basarsi su di essa e arrivano a conclusioni diverse perché perché ad alcuni non gli è dato di intendere quelle cose oppure semplicemente sono corrotti cioè li stiamo stiamo parlando con loro in un momento in cui sono corrotti non è che ti dicono ti vengono a dire io sono corrotto sono sviato non sono nella verità o non lo sono mai stati o oppure si sono sviati non te lo vengono a dire loro si presentano come ministri di Dio come angeli di luce anche Satana si traveste di angelo di luce la questione come si risolve in linea generale è sapendo quello che tu sei nelle scritture sentendo dentro di te dentro di te che il Signore ti approva cioè se tu preghi se tu sei in comunione con Dio e senti la presenza di Dio tu stai andando bene col Signore perché se tu sei nella menzogna sappi il Signore non ti approva quindi non ti può far sentire la sua presenza la sua gioia che quando ti metti in preghiera ti inonda tutto il tuo essere la tua mente il tuo cuore dentro di te capite? e questo è importantissimo perché è quella presenza che ti dice che stai camminando come piace al Signore tenendo sempre presente che la nostra condotta deve essere come le scritture dicono dobbiamo crescere nella conoscenza e poi anche il nostro cuore deve essere puro umile savio capite? dobbiamo avere sentimenti positivi non negativi anche verso i nostri nemici e lì è un segreto c'è un segreto profondo che solo tu e il Signore potete vi rendete conto di avere il Signore lo sa ma anche tu lo sai se dentro di te le cose vanno bene lo sai lasciamo stare quando ci sono le afflizioni quando ci sono delle oppressioni persecuzioni uno non è sempre felice perché è oppresso triste no? e allora però quando preghi tu devi avere devi lasciare fuori da te e dalla stanza tutte queste oppressioni e ti presenti davanti a Dio devi provare la presenza la gioia e la presenza la gioia che si prova alla presenza di Dio come dice in un salmo no? che alla presenza di Dio ci sono gioie a sazietà perché? perché proprio quando vai alla presenza di Dio quando preghi tu vai alla presenza di Dio sei davanti a Dio non lo vedi con gli occhi ma lo senti lo devi sentire dentro di te perché lo Spirito Santo si muove opera dentro di te in quel momento si accende fa fuoco e fiamme dentro di te perché sei alla presenza di Dio ne senti l'influenza capite? non lo vedi con gli occhi ma l'influenza spirituale tu la senti la devi sentire devi cercarla quindi queste cose qua le devi catturare le devi prendere per te stesso dalle scritture anche altri come gli sviati anche loro dicono di prendere dalle scritture gli danno la spiegazione che vogliono però quello che non può essere uguale è quello che uno sente dentro perché se uno è nella menzogna io quando sbaglio io non mi sento bene e questo cosa vuol dire? vuol dire che quello il Dio mi sta dicendo che è sbagliato capite? quando invece mi sento bene significa non che sono perfetto non stiamo dicendo che non c'è nessuno perfetto ma quando invece sto in comunione con Dio che sento la presenza di Dio e la gioia del Signore dentro di me sto camminando come piace a Lui quindi non posso essere nella menzogna non si può essere capite? soprattutto parlo delle cose importanti cose secondarie le virgole così quelle piano piano miglioreremo in tutte le cose anche nei minimi dettagli però le cose importanti sono quelle che sentiamo più forti dentro di noi quando le sbagliamo o quando le facciamo bene una delle cose da conoscere perché la predestinazione di cui vi voglio parlare oggi la predestinazione è una cosa da conoscere perché tu se qualcosa la puoi mettere in pratica perché la scrittura quello che ti dice la scrittura e poi vedremo perché il segreto di comprendere ad esempio quello che dice la scrittura il segreto si trova e ad esempio la scrittura ti presenta due punti di vista della scrittura di quello che che avviene in tutto il creato ci sono due punti di vista e sono quello del Signore va bene? cioè quello che sa il Signore è quello che vede il Signore quindi quando le scritture presentano determinate cose e qui sta la sapienza dell'uomo devi riuscire a discernere quale vi faccio qualche esempio ad esempio la scrittura dice che Dio ha scritto il libro della vita fin dalla fondazione del mondo io questo non lo posso né vedere né mettere in pratica perché perché è una cosa che la parola ci sta facendo conoscere che riguarda il Dio quello che lui ha fatto quindi è una mera conoscenza una mera conoscenza della volontà di Dio di quello che Dio ha fatto quando invece la scrittura ti dice tu devi aiutare i poveri tu ti devi santificare tu non devi dire bugie tu non devi calunniare il tuo fratello quello è il punto di vista umano terreno cioè la scrittura sempre la scrittura ti sta facendo sapere quello che tu devi fare perché ti dice quello che devi fare che non annulla le opere non annullano cioè la parola quando ti esorta a fare qualche cosa non sta annullando la predestinazione perché va vista sotto due punti di vista cioè dal punto di vista di quello che Dio sa che alla fine salverà quelli che vuole salvare da quello invece che dice no tu devi fare questo questo e quest'altro giornalmente la scrittura ti dice quello che devi fare però noi sappiamo alla fine che la scrittura ci insegna che quelli saranno salvati quelli che Dio vorrà salvare questa è la predestinazione quindi quando leggiamo dei passi bisogna distinguere le due posizioni quando la scrittura ci dice a noi quello che dobbiamo fare è un punto di vista umano dal punto di vista umano chiamiamolo così invece quando la scrittura ci fa sapere quello che Dio pensa ha fatto o vuole fare e farà e comunque nessuno potrà toccare la sua volontà quello è il suo punto di vista che non possono essere mischiate le due cose capite quindi dobbiamo capire quando leggiamo le scritture sapendo che c'è la predestinazione non dobbiamo mischiare le cose quando c'è scritto che la volontà di Dio è quella che noi ci santifichiamo facciamo le opere aiutiamo i bisognosi non può essere mischiato col fatto che Dio già sa quelli che salverà capite sono due cose distinte la scrittura ti dice a te cosa devi fare e la scrittura ti fa sapere a te quello che Dio fa che sono due cose diverse quindi ecco le due posizioni chiamiamole così la scrittura ci fa sapere quello che Dio ha fatto e che farà e poi ci fa sapere quello che Dio vuole che noi facciamo due cose diverse capite quindi quando leggiamo le scritture in funzione della dottrina della predestinazione non dobbiamo mischiare le due cose quando la scrittura ci fa sapere quello che Dio fa quando la scrittura ci dice che noi dobbiamo fare capite non si vanno a contraddire sono due cose distinte alla fine quello che conta è la conclusione di tutto la volontà di Dio è quello che Dio fa è quello che vince è quello che farà tutto però a noi che siamo su questa terra che non sappiamo i dettagli di quello che vuole fare Dio con noi noi dobbiamo attenerci a quello che la scrittura ci dice che dobbiamo fare capite perseverare nella preghiera tutti i giorni studiare le scritture aiutare i bisognosi santificarsi liberarci da ogni pensiero cattivo da ogni cosa che non va bene però la predestinazione per essere capita per essere capita deve essere deve essere esaminata tenendo conto di queste due cose la posizione dell'uomo cioè la scrittura parla e dice all'uomo quello che deve fare e la scrittura parla e ci dice quello che Dio fa da distinguere le due cose cioè non è che se la scrittura ti dice a te è quello che devi fare ah vedi quindi il risultato dipende da quello che io faccio il risultato finale no? no perché è la somma della parola che ci fa capire tutto no? che ci che dobbiamo la verità sta nella somma della parola non solo in una singola parte vi faccio un esempio è scritto nella legge è scritto nella legge che è vietato mangiare carne di animali impuri quindi se io leggo solo la legge sono un ebreo e leggo la legge quella legge viene da Dio capite? e quindi non mangio carne di maiale ma la legge non è la somma della parola poi è venuto Gesù e ha fatto tutti i cibi ha dichiarato che tutti i cibi sono puri capite? quindi vedete Gesù ha portato a compimento la legge l'ha adempiuta non l'ha annullata non l'ha cancellata ma l'ha adempiuta l'ha compiuta perché c'era un significato spirituale in quella impurità degli animali che poi in Cristo capite? quel significato è scomparso cioè rappresentavano i gentili che erano impuri davanti a Dio ma in Cristo nella croce dei due popoli quello lontano e impuro da quelli vicini che erano i giudei sono diventati un popolo solo per mezzo della fede quindi non ci sono più impuri dal punto di vista di discendenza di razza ma si diventa puri credendo in Cristo Gesù quindi non c'è più distinzione questo l'ha spiegato il Dio lo leggiamo in atti degli apostoli quando Pietro ha quella visione del lenzuolo vi ricordate? con tutti gli animali impuri e una voce gli dice Pietro ammazza e mangia quindi questo per farvi capire che bisogna sempre attenersi alla somma della parola alla somma della parola che ci fa arrivare alle conclusioni che sono quelle secondo il senso della volontà di Dio e non dobbiamo interpretare arrivare a conclusioni che sono secondo il senso degli uomini quindi la predestinazione capire già partire da questo presupposto che la scrittura ti dice che bisogna distinguere quello che ti dice la scrittura che devi fare tu da quello che invece Dio fa bene quindi Dio fa qualcosa e la scrittura ce ne parla e l'uomo deve fare qualcosa e la scrittura ce ne parla quindi queste già cominciamo tenendo a mente queste quando leggiamo sulla predestinazione dobbiamo ricordarci queste due queste due posizioni partiamo con la dottrina qui ci sarebbe da parlare tanto sulla predestinazione voglio voglio parlarvi solo di alcune cose forse non ce la faccio neanche tutt'oggi la prossima volta parleremo della seconda parte che cosa riguarda la seconda parte siccome noi crediamo ecco questo ci individua e ci distingue dal passato dai calvinisti ed altri noi crediamo nella predestinazione quindi che la salvezza dipende da Dio e non dall'uomo ma crediamo anche che la salvezza si può perdere e questo va andare giù di testa tutti i calvinisti cioè quando parliamo della predestinazione gli arminiani che sono quelli che non credono che dicono che la salvezza dipende dall'uomo non da Dio quelli vanno giù di testa se tu gli parli della predestinazione poi ci sono i calvinisti però i calvinisti gli parli della perdita della salvezza che si può perdere la salvezza che un eletto può perdere la salvezza e vanno giù di testa anche loro ma noi perché parliamo in questa maniera parliamo in questa maniera perché la scrittura ce lo insegna ce lo dice che la salvezza si può perdere la scrittura ci dice sia ci parla sia della predestinazione ma ci parla anche della perdita della salvezza e noi non possiamo per giustificare logicamente una cosa annullare l'altra perché la scrittura ne parla ampiamente di tutte e due le cose quindi quindi dobbiamo parlare di tutte e due trovare una conciliazione delle due cose partiamo dall'inizio per capire la predestinazione perché la predestinazione a volte si capisce la capisci ma non la vuoi accettare cioè ci sono quelli che la capiscono ma non la vogliono accettare come se fosse una cosa negativa e io voglio dimostrarvi oggi che è una cosa invece positiva una cosa necessaria è qualcosa che senza di essa non ci sarebbe nessun salvato ecco perché la predestinazione è importante e ve lo voglio dimostrare c'erano un uomo e una donna che erano puri davanti a Dio ed erano ad Ammedeva sono stati creati ed erano puri cioè dentro di loro non c'era la corruzione la corruzione dell'umanità si è avuta dopo quando Adam ed Eva peccarono fecero entrare il peccato nell'uomo negli uomini nei discendenti di Adam ed Eva il famoso peccato originale il peccato iniziale compiuto da Adam ed Eva hanno fatto sì che diciamo questo peccato passa questa corruzione questo peccato passasse a tutti i discendenti di Adam ed Eva e tutti gli uomini infatti prima della risurrezione dei morti fino a quando non risusciteremo dai morti in questo corpo anche noi credenti in questo corpo abita il peccato infatti dobbiamo lottare continuamente per tenere l'uomo vecchio sempre soggiocato sottomesso che non gli dobbiamo dare spazio per esplodere e prendere in mano la situazione a lui perché ritorneremo a fare le cose di prima quindi in questa carne abita il peccato noi siamo stati salvati in speranza saremo liberati completamente dal peccato solamente quando risusciteremo dai morti capite quando avremo un corpo completo rivestito questo corpo dal corpo glorioso che Dio ci darà ecco allora in quel momento alla risurrezione dei morti noi il peccato non abiterà più dentro il corpo però fino ad allora e questo ci rende deboli capite che lo spirito è pronto ma la carne è debole perché è debole perché nella carne abita il peccato e noi dobbiamo lottare contro di essa tutti i giorni però chi è che per un periodo non l'ha fatto questo lo hanno fatto Adamo ed Eva perché non avevano il peccato in loro quindi il loro corpo era puro ma cosa avvenne Adamo ed Eva anche se erano puri per l'azione sedutrice di Satana del nemico si sono concentrati su disobbedire a un comandamento del Signore che era quello di non mangiare di quel frutto di un determinato frutto del frutto di quell'albero della conoscenza del bene del male dopo che hanno quindi la seduzione del diavolo è andata ad effetto quindi ha convinto due esseri puri come Adamo ed Eva a peccare a trasgredire i comandamenti di Dio quindi questi Adamo ed Eva hanno peccato e il peccato poi è passato a tutti i suoi discendenti infatti poi muoiono perché muoiono perché si ammalano i discendenti tutti i discendenti di Adamo ed Eva si ammalano e muoiono perché il peccato è passato su di loro e proviene da Adamo ed Eva che erano puri quando hanno peccato quindi il modello va bene il modello di assenza della predestinazione il modello più vicino quello più probabile che potesse portare a risultati positivi nel caso la predestinazione non esistesse quel modello ce l'abbiamo in Adamo ed Eva perché non avevano la corruzione dentro di loro e sto facendo diciamo un esempio non è così ma per farvi capire che erano le due persone più vicine dove a poter scegliere non essendo contaminati dal peccato di poter scegliere le cose giuste capite quindi fare solo del bene quindi essere graditi a Dio per le loro opere capite questo è il modello che ci presentano chi non crede nella predestinazione questo vogliono dire che l'uomo siamo sempre lì l'uomo deve essere gradito per quello che fa e non noi invece diciamo che siamo graditi a Dio per l'opera che Cristo Gesù ha fatto per noi e lo riconosciamo e questo ci rende puri davanti a Dio non che lo siamo per noi stessi e per le nostre opere ma lo ma lo diventiamo quando crediamo che Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato capite quindi c'è una grande differenza tra chi crede nella predestinazione e chi non ci crede perché chi crede nella predestinazione crede veramente che la salvezza sia per grazia e gli viene donata gratuitamente e non se l'è meritata lo crede veramente perché non ha potuto fare niente per essere salvato invece chi non crede nella predestinazione si mantiene su di sé alcune opere perché io sono stato salvato perché mi meritavo perché ho creduto perché ho fatto questo ho fatto questo ho fatto questo capite? e quindi vedete credere nella predestinazione o non credere la differenza è enorme la differenza è proprio questa cioè nel credere che siamo stati salvati per grazia mediante la fede non per opere giuste neanche il giorno che siamo nati di nuovo noi non siamo nati di nuovo perché quel giorno lì eravamo buoni o avevamo il cuore aperto o perché volevamo esserlo no 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 siamo stati salvati per la semplice misericordia di Dio nei nostri confronti punto addio tutta la gloria non abbiamo fatto nulla ma lo vedremo lo vedremo con le scritture quindi ritorniamo al nostro modello più vicino al poter scegliere liberamente che è quello di Adam e Deva sono riusciti a scegliere il bene Adam e Deva che non erano contaminati dal peccato non ci sono riusciti sono stati seduti sono caduti ma come erano puri e sono caduti sì capite ma allora se sono caduti loro che erano puri gli uomini che sono corrotti che sono discendenti di Adam e Deva gli uomini che sono corrotti completamente nel loro essere nella loro carne ma come possono scegliere cose buone ma infatti lo dice la scrittura no in romani vi ricordate che è scritto in romani nei primi capitoli spiega la corruzione dell'uomo derivante derivante dal peccato di Adam poi si aggiungono i peccati che uno compie ma si parte dai peccati che aveva compiuto che avevano compiuto Adam ed Eva quindi si è corrotti infatti la scrittura in romani capitolo 3 versetto 9 dice che dunque abbiamo noi al qualche superiorità affatto perché abbiamo di anzi provato che tutti giudei e greci sono sotto il peccato siccome è scritto non vi è alcun giusto neppure uno non vi è alcuno che abbia intendimento non vi è alcuno che ricerchi Dio tutti si sono sviati tutti tutti quanti sono diventati inutili non vi è alcuno che pratichi la bontà no neppure uno la loro gola è un sepolcro aperto con le loro lingue hanno usato frode vi è un veleno di aspidi sotto le loro labbra la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza i loro piedi sono veloci a spargere il sangue sulle loro vie è rovina e calamità e non hanno conosciuto la via della pace non c'è timore di Dio dinanzi agli occhi loro quindi voi pensate pensiamo questo in funzione della salvezza se Adam ed Eva non sono riusciti essendo puri a fare il bene soltanto il bene non essendo corrotti ma come possono fare il bene coloro che invece sono tutti corrotti l'abbiamo letto adesso l'uomo è totalmente corrotto perché discende il peccato discende da una parte del peccato discende da Adam ed Eva il peccato originale poi ognuno ci mette il suo carico cioè poi ognuno man mano che cresci ci hai messo del tuo quindi vedete non si può non si è in grado di essere salvati per le proprie opere non è possibile non siamo in grado non la corruzione la seduzione l'azione che il diavolo fa con i suoi angeli con i suoi spiriti immondi su tutti gli uomini anche verso i credenti se non ci fosse il signore che forzatamente ci preserva ci libera ci dà la vittoria nessuno di noi sarebbe in grado di arrivare sino alla fine capite nessuno nessuno sarebbe nato di nuovo e nessuno riuscirebbe arrivare sino alla fine perché la corruzione abita nel corpo di tutti quanti quindi perché vi sto facendo questo discorso perché voglio dimostrarvi che senza la predestinazione non ci può essere nessuno salvato perché se no ci sarebbe la salvezza per opere capite perché se no tu saresti stato in grado di piacere a Dio per le tue opere sia nella salvezza iniziale sia dopo per quanto riguarda la vita da credente senza la predestinazione non sarebbe salvato nessuno perché tutti cadremmo nel peccato più totale e assoluto invece che cosa avviene avviene che ad alcuni il Signore li sceglie li salva come vuole Lui e così ha fatto con noi e ci preserva sino alla fine capite è Lui che opera a Lui va tutta la gloria noi siamo carne e polvere non siamo in grado di fare nulla non saremo in grado di fare nulla se non ce l'hanno fatta Adamo ed Eva che erano puri ma noi dove ci presentiamo capite dove andiamo c'è una seduzione quante volte sappiamo le cose e sbagliamo guardiamoci in faccia gli uni gli altri quante volte noi sappiamo che delle cose non si fanno e invece le facciamo perché la corruzione abita in noi sappiamo che quella parola non si dice e la diciamo sappiamo che una certa parola può provocare il male dell'altra persona e la diciamo sappiamo che facciamo e diciamo tante cose che non dobbiamo fare lo sappiamo e quindi perché? perché non siamo in grado di fare il bene ecco perché tutto il peccato ci ricorda che abbiamo bisogno tutti i giorni di Gesù Cristo non avevamo bisogno solo ieri quando non eravamo salvati ne abbiamo bisogno tutti i giorni ecco perché non dobbiamo sentirci ognuno superiore all'altro uno ha un po' di conoscenza in più e si sente superiore agli altri no perché anche tu sei nella carne ti puoi corrompere e lo abbiamo visto purtroppo quindi tanta conoscenza da sola così buttata lì non serve a noi ci serve l'insieme delle cose la conoscenza la condotta e il cuore insieme devono andare insieme deve essere tutto equilibrato e preciso umiliandosi e riconoscendo di essere deboli di essere quelli che siamo carne e polvere capite e quindi dobbiamo partire vedete se si parte dal presupposto che siamo corrotti e che nessuno è in grado di salvarsi da solo la predestinazione cioè la salvezza per la sola volontà di Dio è già spiegata vedete è già spiegata è già esposta perché 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 siamo corrotta l'umanità è corrotta dopo che Adam e Eva hanno peccato e non è in grado di piacere a Dio guardate vi leggo sempre da Romani Romani capitolo 5 leggiamo dal versetto 12 leggiamo qualche passaggio che ci fa capire che il peccato è passato da Adam e Eva su tutta l'umanità non ve lo sto dicendo perché me lo sono pensato io è scritto perciò siccome per mezzo d'un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato vi è entrata la morte e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno uno peccato poiché fino alla legge il peccato era nel mondo ma il peccato non è imputato quando non ve legge eppure la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo il quale è il tipo di colui che doveva venire però la grazia non è come il fallo perché se per il fallo di quell'uno i molti sono morti molto più la grazia di Dio e il dono fattoci dalla grazia dell'unico uomo Gesù Cristo hanno abbondato verso i molti quindi vedete il peccato di Adamo e Eva di Adamo qui dice è passato a tutti gli uomini tutti si sono corrotti tutti hanno peccato cioè tutti praticamente per la debolezza del peccato che abita nel corpo non sono in grado di piacere a Dio per le loro opere e quindi come facciamo a piacere a Dio per piacere a Dio per essere salvati per piacere a Dio bisogna avere fede e ci viene data da Dio sia la condotta sia la fede sia la conoscenza ci viene dato tutto da Dio noi quello che abbiamo è un grande tesoro ma ci viene dato ci è stato dato ci è stato dato da Dio non ce lo siamo costruito noi i veri tesori parlo dei veri tesori quelli spirituali quelli della misericordia di Dio della conoscenza della parola capite non i beni materiali non sono quelli che devono interessarci finché avremo di che mangiare e bere ogni giorno siamo a posto non dobbiamo concentrarci sull'accumulare beni materiali ma dobbiamo concentrarci a ricevere da Dio continuamente i beni spirituali quello che ci serve per crescere per per entrare poi nel regno nel regno celeste quindi abbiamo dimostrato sono solo decenni però le cose stanno così abbiamo detto che non si può piacere a Dio per le proprie opere non si può essere neanche salvati e non si può neanche arrivare a perseverare a perseverare sino alla fine se non è Dio che opera capite quindi sia alla nuova nascita che adesso andiamo a vedere in Giovanni Vangelo di Giovanni capitolo 1 versetto 12 Giovanni 1 12 parla della nuova nascita e dice alcune cose importanti ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto sta parlando di Gesù ecco gli uomini che ricevono Gesù Cristo nel loro cuore egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo ma sono nati da Dio qui ogni parola qui ci vorrebbe tempo ha un significato che potremmo impiegare molto tempo a spiegare tutto quello che questi due versetti dicono ma io voglio soffermarmi su questo né da volontà d'uomo cioè la nuova non si diventa figlioli di Dio per volontà d'uomo di nessun uomo e quindi come faccio io a pensare che io sono nato di nuovo per la mia volontà ho voluto io ma se lo dice la scrittura non sei nato da Dio per volontà d'uomo non sei nato è un dono ti è stato dato capite ti è stato dato donato gratuitamente senza merito alcuno non sei stato guardato dall'alto e dire questo se lo merita gli diamo la nuova nascita no non ha funzionato così le cose sono andate in un'altra maniera le cose sono andate così il Dio prima della fondazione del mondo ha scritto un libro in questo libro ha scritto nel libro della vita in questo libro ha scritto dei nomi quindi alcuni nomi li ha scritti altri no quei nomi sono tutte quelle persone che nelle varie generazioni sono venuti all'esistenza e sono stati chiamati al ravvedimento e sono stati salvati come sono stati salvati lo volevano loro no perché altrimenti la scrittura si contraddice cioè se l'uomo voleva essere salvato anche se vuole essere salvato non dipende da lui dalla sua volontà anche se uno volesse essere salvato perché molti possono dire no ah vogliamo essere salvati sì però se non ti è dato di essere salvato rimane una volontà persa fino a se stessa perché non conta la volontà dell'uomo non conta la volontà dell'uomo quello che conta è la volontà di Dio ma capite perché noi dobbiamo solo ringraziare non dobbiamo gonfiarci di nulla non ci dobbiamo sentire non ci dobbiamo sentire diversi dagli altri in nulla se non nella grazia che abbiamo ricevuto e non ce la siamo meritata capite che in mezzo a miliardi e miliardi e miliardi di persone che sono vissute che vivono che vivranno tu sei stato scelto quindi come fai a pensare di te stesso che non vali niente che sei rifiuto della terra non è così perché se il Signore ti ha chiamato a salvezza e ti ha salvato ti ha dato un grande valore non ha salvato tutti i sette miliardi di uomini importanti ha salvato te anche se gli altri ti ritengono una persona che non serve a nulla in questa faccia della terra sì si può fare tutto si può pregare per essere salvati si può pregare per gli altri affinché siano salvati si può fare ma la salvezza dipende da Dio comunque si può fare si può fare tutto ebbene lo puoi fare sapendo che le cose avverranno se sono secondo la volontà di Dio se uno prega perché noi glielo diciamo quando annunziamo l'Evangelo gli diciamo prega che il Signore ti faccia conoscere la salvezza ti dia la salvezza glielo diciamo se lo fanno fanno bene se sono scritti nel libro della vita saranno salvati se non sono scritti nel libro della vita c'hai voglia te di parlargli non sono scritti non sono scritti nel libro della vita non possono essere salvati capite però vedete chi è che lo sa chi è scritto nel libro della vita il Dio e noi vedete il punto che vi dicevo inizialmente vedete come si conciliano le cose se uno prende i punti di vista corretti delle cose trova trova la risposta cioè il Dio conosce chi c'è scritto nel libro della vita ma noi no e quindi cosa dobbiamo fare annunziare l'Evangelo a tutti sapendo che si convertiranno solo quelli che sono scritti nella vita quindi non mi devo sentire colpevole se non si convertono e non devo avere meriti se io ho annunziato e quello lì si è convertito non ho meriti e non ho responsabilità per la salvezza dell'uomo la mia responsabilità dove sta quella che mi conteggia il Signore qual è è quella che mi ha detto che io devo annunziare l'Evangelo a tutta la gente a tutte le persone ecco oppure proprio ti manda le persone precise in faccia e le devi evangelizzare te lo chiedono te lo capisci che lo devi fare ecco quella responsabilità ce l'hai poi tu non sai se quello lì sarà salvato oppure no non lo sai vedete il punto di vista dell'uomo è sempre limitato però devi fare il lavoro e Dio sa chi è scritto e chi non è scritto ma noi no capite quindi noi sappiamo che Dio lo sa ma noi non lo sappiamo e qual è il nostro comportamento che dobbiamo tenere il comportamento che dobbiamo tenere è quello di annunziare l'Evangelo perché così parliamo a tutti e potremo beccare qualcuno che è scritto nel libro della vita capite quindi non dobbiamo avere riguardi personali lo dobbiamo fare con tutte le nostre forze lo dobbiamo fare cercando di convincerli esortarli a ravvedersi lo dobbiamo fare come se dipendesse da loro la salvezza quando annunziamo l'Evangelo lo dobbiamo fare bene non così lasciate stare la predestinazione quando annunziamo l'Evangelo tu siccome non sai in quel momento se non lo sai se lui è scritto o no nel libro della vita tu devi farlo nella maniera più più convincente possibile quindi lo devi esortare a ravvedersi per essere salvato questo devi fare questo ti viene chiesto questa è la tua responsabilità non hai la responsabilità della sua salvezza quella è un'opera che spetta a Dio tu hai la responsabilità di parlare tu parli e la salvezza la compie a Dio devi sapere queste due cose quindi capite bisogna distinguere le cose che riguardano che l'uomo deve fare dalle cose che invece fa Dio semplicemente la scrittura facendoci sapere quello che fa Dio non dobbiamo mischiare le cose quelle che fa Dio le fa Dio quelle che dobbiamo fare noi dobbiamo farle noi capite abbiamo l'obbligo di farle noi ma non dobbiamo mischiare le cose siccome io devo evangelizzare le persone allora la salvezza dipende dalla persona che 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 ascolta o da te che parli no non dipende da quello la salvezza dipende esclusivamente da Dio quindi cosa faccio dipende da Dio mi siedo e non faccio niente no perché quella è la conoscenza che riguarda le cose che fa Dio tu devi sapere quello che devi fare tu capite ci sono bisogna distinguere le due cose quello che devi fare tu è annunziare l'Evangelo con tutte le forze possibili con la 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 la forza di convinzione più più maggiore che tu hai come pensando al fatto che potrebbe dipendere dalle tue parole la sua conversione ma sai bene che non dipende da quello e non dipende neanche da lui ma dipende da Dio che fa misericordia a chi vuole capite si nasce di nuovo solo per volontà di Dio non per volontà d'uomo nessuna volontà d'uomo né chi parla né chi ascolta va bene sapere queste cose vi aiuta perché sai i tuoi doveri quali sono di annunziare l'Evangelo ma la salvezza non è tua responsabilità quindi non hai la responsabilità della morte di qualcuno della perdizione tu hai la responsabilità di parlare e finisce lì non del risultato non hai neanche i meriti quindi capite tutta la gloria va sempre e comunque a Dio tu devi fare l'opera ma il risultato dipende da Dio tu innaffi tu semini innaffi ma è Dio che fa crescere Dio ti darà il premio dell'opera che farai ma il risultato non dipende da quello che fai tu la posizione ricordatevi quello che devi sapere che devi fare è diverso da quello che Dio che la parola ti fa sapere che Dio fa quello che Dio fa è quello che tu devi fare distinguiamoli quando ci sono i passaggi biblici dobbiamo distinguere ma questo è quello che fa Dio oppure è qualcosa che devo fare io capite distinguiamo perché la parola ci fa sapere tutte e due le cose quello che dobbiamo fare noi è quello che fa Dio e non dobbiamo mischiarle insieme dobbiamo riconoscerle ora la predestinazione è presente in tantissimi passi della scrittura io ne voglio prendere solo alcuni i romani 828 è uno di quei passi che manda un po' fuori di giri molte persone lì proprio quelli che non credono nella predestinazione cosa dice qui romani 828 dice or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano il Dio i quali sono chiamati secondo il suo proponimento vedete già qui dice le persone che Dio ama quindi le persone su cui Dio ha riposto il suo affetto il suo amore qui dice le cose e tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio i quali sono chiamati cioè chiamati al ravvedimento per la salvezza sono chiamati secondo il suo proponimento secondo il proponimento di Dio cioè il proponimento sono quel che Dio si propone dentro di sé cioè lui prende delle decisioni dentro di sé non influenzate da niente da nessuno esternamente prende delle decisioni e poi le porta a compimento questo è il proponimento come lui ha deciso di fare fa e le sue decisioni non possono essere influenzate da cose esterne dice ancora le opere che l'uomo fa non influenzano il proponimento di Dio l'elezione il proponimento dell'elezione di Dio non viene influenzata da quello che compiono le opere lo leggiamo dopo è scritto anche questo io ve lo dico così per spiegarvelo ma è scritto in romani più avanti 9 quando arriveremo lì 9 10 11 12 lo spiega però rimaniamo ancora in romani 8 28 29 dice qui perché quelli che egli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo onde egli sia il primo genito fra molti fratelli quindi qui dice quelli che Dio ha preconosciuti li ha anche predestinati quindi questa parola preconosciuti va capita bene perché in questa parola cadono in molti quelli che ha preconosciuti la parola conoscere sappiamo cosa vuol dire in senso in senso normale in italiano però la parola conoscere viene utilizzata in alcuni punti della scrittura con un senso diverso da quello di conoscere capite conoscere secondo il significato italiano ad esempio in Genesi al capitolo 4 quando Adamo si unisce a sua moglie Eva e nascono poi dei figli c'è scritto che Adamo conobbe Eva e lì non vuol dire che l'ha incontrata l'ha conosciuta e poi si sono presentati no perché da quella conoscere è nato un figlio quindi che cosa vuol dire quella parola conoscere quella parola conoscere vuol dire che c'è un rapporto di profondo affetto di amore di unione con quella persona tra quelle persone talmente unite che marito e moglie nascono dei frutti che sono i figli quindi vedete la parola conoscere viene utilizzata nella scrittura in alcuni punti per dimostrare non solo lì ce ne sono anche altri viene utilizzata per 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 spiegare che c'è che vuol dire amato affetto c'è un certo affetto un'affezione che una persona prova per un'altra qui dice preconosciuti quindi che sono stati amati da prima infatti da quando sono stati amati quelli predestinati dalla fondazione del mondo perché Dio li ha scritti nel libro della vita quando è stato fin fin dalla fondazione del mondo capite quindi sono stati preconosciuti cioè amati prima prima quando prima della fondazione del mondo quando è stato scritto il libro della vita conosciuti prima se questo se noi diamo il significato normale alla parola preconosciuti qua cioè che Dio ha conosciuto prima quelli che Dio ha perché qui dice quelli che egli ha preconosciuti cioè conosciuti prima secondo il significato che alcuni vogliono dare per annullare la predestinazione dice perché quelli che egli ha conosciuti prima li ha pure predestinati predestinati a che cosa cioè li ha destinati ad essere che cosa quelli che ha preconosciuto ad essere conformi all'immagine del suo figliolo ora la domanda è questa se quelli che Dio ha conosciuto da prima secondo il ragionamento che ha il significato che danno alla parola preconoscere quelli gli arminiani quelli che non credono nella predestinazione dovrebbero spiegare come mai il Dio conosce da prima i salvati ma non conosce da prima i perduti cioè si aprono delle obiezioni se io do un significato sbagliato a una cosa bisogna rispondere a delle obiezioni l'obiezione è questa ma se Dio quelli che ha preconosciuto secondo il senso che danno gli arminiani cioè i nemici della predestinazione se quello li ha conosciuti da prima e li ha fatti diventare e li fa diventare li predestina ad essere conformi all'immagine di Gesù Cristo la domanda che dobbiamo porci è questa ma allora il Dio preconosce solamente i suoi figli i perduti non li preconosce e le cose non stanno così perché Dio conosce da lungi anche l'empio i malvagi li conosce da lontano li conosce da prima della fondazione del mondo anche a loro infatti alcuni molti non sono neanche scritti nel libro della vita perché Dio li conosce però non è che non sono stati scritti nel libro della vita perché sono malvagi perché tutti siamo malvagi siamo stati malvagi e siamo malvagi tutti ma solo che di tutti questi malvagi il Dio su alcuni ha riposto la sua affezione il suo amore capite egli ha sparso la sua misericordia su quelli che lui ha voluto e li ha salvati e li aiuta a perseverare sino alla fine quelli che lui decide di fare quindi dipende da Dio tutto questo perché la gloria deve andare tutta a Dio perché se io dico che il Signore mi ha salvato perché mi sono predisposto ad essere salvato mi sto gloriando di qualcosa che i perduti non hanno fatto capite quindi c'è un'opera che io ho fatto e che loro non hanno fatto quelli che rimangono perduti quindi sto spiegando una salvezza per opere vedete anche se un'opera sola all'inizio è sempre un'opera dell'uomo quindi io faccio dipendere la salvezza dalla volontà dell'uomo l'Arminiano ragiona così noi invece che crediamo nella predestinazione crediamo a quello che sta scritto dove abbiamo letto in Giovanni che non dipende dalla volontà dell'uomo non dipende dalla volontà dell'uomo ma da quale volontà dipende? dipende dalla volontà di Dio e la andiamo a leggere ancora in maniera ancora più chiara anche se quella in Giovanni era già chiara andando avanti al capitolo 9 di Romani leggiamo dal versetto 10 per capire anche il contesto Romani 9-10 qui ci dice ci conferma ancora che non è la volontà dell'uomo che porta alla salvezza ma è solo esclusivamente la volontà di Dio che salva e quindi il Dio ha preordinato a vita eterna alcuni quelli che ha voluto possiamo dire poi vedremo anche ma allora Dio è giusto è ingiusto ma Dio fa quello che vuole lui lui l'ha detto che farà misericordia a chi vuole e indurerà indurerà chi vuole vedete fa le due azioni lui avrà misericordia di chi vuole e indurerà chi vuole allora chi gli può dire cosa deve fare a Dio capite quindi come faccio a dire che Dio è ingiusto se fa come vuole lui lui è il vasaio un vaso non può dire al vasaio perché mi hai fatto così capite c'è una bella differenza tra il vasaio e il vaso di terracotta capite andiamo avanti abbiamo detto Romani capitolo 9 versetto 10 non solo ma anche a Rebecca venne la medesima cosa ah volevo dirvi apro una premessa che Paolo impiega dei capitoli interi per spiegare la predestinazione cioè non è che noi citiamo solo qualche versetto ma sarebbero da leggere capitolo 8 9 10 11 12 di Romani sta parlando della predestinazione perché in Romani è spiegata in tutte le sue forme la salvezza per grazia capite nell'epistola di Paola ai Romani non solo lì ma soprattutto nell'epistola di Paola ai Romani dove Paolo spiega che la salvezza è solo per fede è un dono di Dio non per opere capite e la predestinazione è appunto ciò che dà tutta la gloria a Dio e non ci non ti puoi prendere la gloria tu non ne hai non hai fatto nulla per essere salvato devi solo ringraziare Dio che ha avuto misericordia di te di me di noi capite perché tutta la gloria deve andare a Dio infatti chi predica contro la predestinazione è perché vuole arrivare a dire io sono stato salvato perché l'ho voluto io però dal discorso iniziale che io vi ho detto se Adam e Eva non ce l'hanno fatta da loro stessi a piacere a Dio e ad essere salvati diciamo a fare le opere che piacciono a Dio ed erano puri come fa l'uomo corrotto a piacere a Dio se non è assolutamente in grado capite quindi è impossibile essere salvati per le proprie opere impossibile per forza dobbiamo essere salvati per la grazia di Dio e per forza deve esserci la predestinazione perché nessuno sarebbe in grado di arrivare sino in fondo da solo con le sue sole forze non ce la fa non ce la farebbe nessuno e quindi c'è una predestinazione e Dio salva un numero di persone che vuole lui che lui ha deciso di salvare e per me non è ingiusto fa quello che vuole lui è il vasaio fa i vasi come vuole quindi torniamo al versetto di Romani 9-10 non solo ma anche a Rebecca venne la medesima cosa quando ebbe concepito da uno stesso uomo vale a dire Isacco nostro padre due gemelli poiché qui ci sono versetti importanti che spiegano che spiegano che Dio quando ha preso una decisione di salvare una persona non l'ha presa sapendo che quello lì si sarebbe predisposto avrebbe avuto fatto un'opera buona aveva un buon cuore no 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 il Dio ha scelto solamente per il suo proponimento cioè per la decisione che ha preso dentro di sé di salvare alcuni e basta non dipende dalla volontà dell'uomo e qui lo spiega lo spiega quindi questi versetti ti spiegano questo dice poiché prima che fossero nati quindi sta parlando di due gemelli di due persone che nascono nello stesso momento che hanno diciamo la stessa le stesse cose però uno viene scelto e l'altro no e ne spiega perché dice poiché prima che fossero nati e che avessero fatto alcunché di bene o di male quindi Dio li scelse già prima di che nascessero prima che avessero fatto qualcosa di bene o di male sono stati stati scelti prima i salvati prima che facessero qualcosa di bene o di male qui in questo caso sta parlando di Giacobbe ed Esau Giacobbe è stato scelto Esau no ho amato Giacobbe o ho odiato Esau no è stato scelto per quale motivo e qui lo sta spiegando e bisogna fare attenzione a questi versetti prima che fossero nati quindi e che avessero fatto alcunché di bene o di male e poi spiega il perché ha deciso così affinché rimanesse fermo il proponimento delle lezioni di Dio cioè non dipende dalle opere sono stati la scelta è stata fatta prima che nascessero prima che facessero le proprie opere di bene o di male ma c'è scritto che deve perché perché doveva rimanere fermo il proponimento dell'elezione di Dio cioè la decisione che Dio aveva preso dentro di sé prima della fondazione del mondo nel scegliere i salvati e quelli non salvati l'elezione no il proponimento dell'elezione di Dio la decisione che Dio ha preso già in sé stesso nel scegliere gli eletti nel eleggere le persone a salvezza poi dice ancora che dipende vedete quindi l'elezione da chi dipende e qui lo dice ecco perché sono importantissimi questi versetti che dipende quindi l'elezione da che cosa dipende e ce lo dice che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama quindi quella elezione cioè tu sei stato eletto io sono stato eletto gli altri che sono qui sono stati eletti a salvezza per quale motivo? per la volontà d'uomo avete voluto voi essere salvati? qui no non dice così dice che dipende non dalle opere infatti prima diceva che prima diceva che prima che fossero nati avessero fatto alcunché di bene o di male capite? perché la scelta è venuta prima che nascessero e non dipende dalle opere non dipende da nessun tipo di opera neanche neanche se Dio le vedeva prima Dio vede le opere che noi abbiamo fatto che facciamo e che faremo anche in futuro ma la sua decisione non dipende dalle opere che noi faremo da quelle che sapeva il Dio che sarebbero state fatte non dipende dalle opere in nessuna maniera il Dio ha voluto scegliere le persone per le loro opere non le ha scelte per le loro opere ma qui dice che dipende non quindi l'elezione non dipende dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama chi è colui che chiama è Dio è Dio la volontà vedete in Giovanni abbiamo letto che non dipende dalla volontà dell'uomo nascere di nuovo va bene si nasce dall'alto per volontà di Dio solo per volontà di Dio qui dice che l'elezione non dipende dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama di Dio vedete qui non c'è assolutamente la volontà dell'uomo non può essere presa in considerazione per la salvezza alla volontà dell'uomo non è possibile infatti poi andando avanti dice nel capitolo 9 di Romani versetto 14 che diremo dunque ve forse ingiustizia in Dio perché Paolo sta spiegando dei concetti che la prima cosa che la gente può dire è ma allora Dio è ingiusto ma perché è ingiusto adesso noi dobbiamo dire a Dio cosa è la giustizia e cosa non lo è cioè vi rendete conto non siamo in grado di accusare Dio di essere ingiusto lui fa quello che vuole è il vasaio capite il vasaio al vasaio non gli si può dire il vaso non può dire al vasaio come deve fare i vasi capite è assurdo quindi perché accusare Dio di ingiustizia e dice Paolo che diremo dunque ve forse ingiustizia in Dio così non sia vedete ma infatti Dio ha già detto le cose e dice poiché egli dice a Mosè io avrò mercè di chi avrò mercè e avrò compassione di chi avrò compassione non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre ma da Dio che fa misericordia quindi prima qui qualcuno aveva scritto se qualcuno poteva pregare per essere salvato certo può farlo può anche volere essere salvato io volevo essere salvato anche prima lo desideravo prima di nascere di nuovo poi il Signore mi ha fatto grazia ma lo volevo anche prima ma non è che è arrivata quando lo volevo io la salvezza la nuova nascita è arrivata quando Dio ha deciso che doveva arrivare e la stessa cosa anche per le persone cioè la nuova nascita arriverà su quelle persone che Dio ha scelto che ha deciso che dovessero devono nascere di nuovo quindi non dipende dall'uomo cioè l'uomo può volere essere salvato questa volontà può averla ma non dipende dalla sua volontà essere salvati quindi vedete gli arminiani quelli che sono contro la predestinazione basta volere essere salvato no perché qui la scrittura ti dice che non dipende da tu che vuoi essere salvato infatti qui dice non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre ma da Dio che fa misericordia ma lo dice o no la scrittura che non dipende da chi vuole essere salvato ma dipende da Dio essere salvato lo dice e allora come facciamo ah io sono stato salvato perché ho voluto ho aperto il mio cuore no non hai aperto niente è Dio che ti ha aperto il cuore infatti la nuova nascita come avviene avviene che lo spirito santo a un certo momento vince ogni resistenza dei nostri cuori entra e ci rigenera spiritualmente non l'abbiamo voluto noi è stato lo spirito santo che ci ha rigenerati spiritualmente è lì che siamo stati salvati e non l'abbiamo voluto noi non l'abbiamo cercato noi oppure anche se l'abbiamo voluto non dipendeva da quello perché io volevo essere salvato prima di quando sono stato salvato sono passati anni e poi il Signore ha deciso di salvarmi di farmi nascere di nuovo però vedete non è che dal momento che ho iniziato a volere essere salvato sono stato salvato subito no quando Dio ha deciso era tutto organizzato pianificato al momento sono nato di nuovo siamo nati di nuovo nel momento in cui Dio ha stabilito non quando volevamo noi quando quindi non dobbiamo non dobbiamo diciamo pensare di essere nati di nuovo tardi era meglio se nascevo prima evitavo molti guai no perché era tutto stabilito era già tutto stabilito da Dio quindi ogni cosa è avvenuto nel momento giusto che Dio ha stabilito capite quindi non possiamo rammaricarci quello che si converte a 80 anni avrei voluto convertirmi a 20 anni no quando Dio ha stabilito quando Dio ha stabilito è il momento giusto certo perché tutti l'abbiamo pensato questo ma se il Signore mi salvava evitavo di combinare guai no tutta la vita perché noi molte volte uno arriva alla salvezza perché ha vissuto una vita disastrosa ha combinato guai gli sono un po' li hai cercati un po' ti sono capitati insomma guai incredibili ecco sappi che comunque il Signore ti ha salvato non quando hai voluto tu ma quando lui aveva programmato di salvarti quindi quei guai sono sono stati commessi sempre tutto sotto il controllo di Dio non ci possiamo rammaricare l'importante è al punto cui siamo arrivati di perseverare sino alla fine e non venire meno questo è importante poi il nostro passato disastroso quello è andato non dobbiamo guardare a quello guardiamo avanti che meglio quindi abbiamo visto che non dipende dunque poiché la scrittura dice a Faraone appunto per questo io ti ho suscitato per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia pubblicato per tutta la terra non solo il Dio salva chi vuole lui ma cita pure Faraone dice io induro anche chi voglio cioè prima ha parlato di quelli che lui voleva salvare che salva ma poi vedete cita anche quelli che indura perché Faraone è stato indurito da Dio infatti conclude dicendo in quel versetto 18 così dunque egli Dio fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole vedete e Dio indura e fa misericordia a chi vuole come vuole quando vuole questo è Dio io devo dirvi quello che sta scritto piaccia o non piaccia agli uomini agli arminiani non piace la predestinazione a quelli che amano la predestinazione calvinisti gli devo annunziare la perdita della salvezza e quelli si agitano da quel punto di vista però le cose stanno così come sta scritto questo sta scritto anche l'altro l'altra parte quindi noi dobbiamo annunziare e credere prima di tutto credere in tutto quello che sta scritto oggi vi ho citato alcune cose sulla predestinazione io non ne ho citato tutto vi ho citato solo dei pochissimi versetti ho voluto fare dei ragionamenti tre tre tipi di ragionamenti che ho voluto fare con voi che voglio che vi ricordiate primo era quello di Adam e Deva dove no non ho finito si può continuare con la perdita della salvezza ma l'orario è passato e magari ci ricongiungiamo la prossima volta piacendo a Dio e parleremo cerchiamo di ragionare su predestinazione perdita della salvezza perché questo è un altro nodo da sciogliere che alcuni non gli va giù dicevo dei tre punti i tre punti primo era Adam e Deva quindi se doveva esserci un libero arbitrio ecco non lo ho citato un libero arbitrio Adam e Deva possono rappresentare il punto più più vicino a questo modello del libero arbitrio che però ha fallito quindi Adam e Deva sono l'esempio del fallimento del libero arbitrio diciamolo così vogliamo prenderlo così perché sono le persone più vicine ad avere la possibilità di poter piacere a Dio per le opere perché perché in loro non c'era contaminazione in loro non c'era il peccato quindi alla seduzione del diavolo loro essendo puri potevano resistere capite avevano più possibilità di resistere dopo noi essendo corrotti non abbiamo la benché minima speranza di resistere alle tentazioni del diavolo deve esserci il Signore che ci scampa capite perché se loro che erano puri sono caduti figuriamoci noi che abbiamo dentro di noi il peccato che alberga e sta aspettando per sfogare in tutta la sua devastazione e dobbiamo tenerlo schiacciato chiuso a chiave non possibilmente l'uomo vecchio ho voluto farvi il ragionamento di Adam e Eva che lo prendo come l'esempio del fallimento del liber arbitrio di un possibile liber arbitrio non è possibile per quello che ci insegna la scrittura non è possibile che ci sia un liber arbitrio e che porti a buoni risultati e la seconda cosa è la parola preconosciuti bisogna dargli il significato che la scrittura gli vuole dare anche se in italiano in alcuni punti le parole non vogliono avere la parola non gli dà il significato che noi gli daremo normalmente nella nostra lingua non gli dà quel significato la parola spiega che significato gli vuole dare perché non corrisponde con gli altri significati quindi dobbiamo trovare qual è il significato della parola preconosciuti abbiamo detto che preconosciuti vuol dire che Dio ci ha amati prima della fondazione del mondo praticamente questo è il concetto e ci ha scelti prima della fondazione del mondo vedete quanto ci ha amato il Signore quindi non dobbiamo attenerci sempre alle parole secondo il significato della lingua italiana nel nostro caso inglese per gli inglesi e altro ma dobbiamo trovare il significato che la parola gli vuole dare e la parola preconosciuti vuole dire appunto conosciuti amati prima della fondazione del mondo questa era la seconda la terza era siccome dicono alcuni ma Dio preconosceva che tu avresti fatto delle opere e quindi ti ha scelto cioè non possono annullare alcuni non possono annullare la predestinazione perché la scrittura ne parla e allora gli danno un significato tutto loro proprio che è questo cioè tu il Dio sapeva che tu avresti fatto il bene e quindi ti ha scritto nel libro della vita quindi il suo proponimento dipende dalle tue opere invece abbiamo letto ho citato appunto due versetti che riguardano il fatto che non dipende dalle tue opere perché il Signore le conosce le tue opere da prima della fondazione del mondo quindi lui ha scelto e lo abbiamo letto non ha scelto sapendo le opere che uno faceva non ha preso la decisione in questa maniera lui ha preso la decisione come ha voluto lui senza subire influenze esterne senza influenze esterne quindi questa forma di preconoscenza come la vogliono far dire loro non come dire vabbè ma Dio conosceva dall'inizio che tu volevi essere salvato e poi la scrittura dice che non dipende da chi vuole essere salvato perché se se io dico se uno dicesse ah ma se tu il Signore sapeva che tu arrivava un momento che volevi essere salvato ma se la scrittura dice che non dipende da chi vuole essere salvato non dipende da chi corre essere salvato quindi non vale quel ragionamento crolla viene meno no non non può non va avanti non arriva a conclusione perché è la somma della parola che noi dobbiamo guardare le cose le cose stanno così è inutile quindi che l'uomo cerchi in tutti i modi di attirare a sé la gloria perché la gloria dipende tutta da Dio cioè la gloria va a Dio solamente noi noi siamo veramente solo carne e polvere ringraziamo Dio quando si serve di noi ringraziamo Dio che ci ha salvati ringraziamo Dio per tutto il bene che lui ci ha fatto capite perché perché veramente noi siamo nulla siamo solo carne e polvere a me mi dà fastidio quando qualcuno si innalza si insuperbisce si sente superiore agli altri qualcuno che disprezza gli altri quelli che disprezzano quelli che sono caduti che li schiacciano anziché tendere la mano per rialzarli mi danno fastidio mi danno tremendamente fastidio ma perché perché siamo tutti immeritevoli della grazia di Dio ora che se tu sei in piedi ringrazia Dio non spegnere l'ucignolo fumante di quello che è caduto non schiacciarlo non metterlo in difficoltà più di quello che è già magari cerca piuttosto di sollevarlo ma chi ti crede di essere ma puoi conoscere tutta la scienza se sei spietato non me ne faccio niente la gente non se ne fa niente di un essere spietato puoi conoscere tutti i misteri di un salomone che offre sacrifici ad altri dèi cosa ce ne facciamo e il lavoro è rimasto vedete noi non rinneghiamo il buon lavoro perché non siamo stolti noi il buon lavoro lo accettiamo quello fatto anche se uno si è sviato lo manteniamo quello che è giusto come manteniamo il libro di proverbi altrimenti dovremmo gettare via il libro di proverbi no? capite? dovremmo andare lì e gettare ah quello si è sviato quindi da lui non accettò niente e strappiamo il libro di proverbi non è così cioè dobbiamo riconoscere che ci può essere uno sviamento un allontanamento ma le cose fatte che sono buone rimangono quelle rimangono noi le accettiamo le cose che riconosciamo sbagliate che non accettiamo quindi siamo carne e polvere cioè che cosa ti devi insuperbili davanti agli altri dialoghiamo parliamo cerchiamo di recuperare chi è in difficoltà non dobbiamo perdere nessuno questo almeno è quello che mi sono sempre sentito in cuore poi non sono riuscito sempre a metterlo in pratica sicuramente ho sbagliato tante volte però questo è l'obiettivo che mi sono sempre dato posto quando ho potuto ho provato ad applicarlo ma ho avuto per fare questo molta opposizione molte volte quindi purtroppo c'è anche questo da dire perché gli spietati vogliono che tutti siano come loro e chi non è come loro è in un altro modo è la predestinazione la predestinazione è una di quelle cose che ti deve distinguere sì devi identificare nella dottrina vi ricordate che l'altra volta vi ho detto che dobbiamo avere un'idea della dottrina in cui dobbiamo credere no dobbiamo avere un'idea se no cioè non perché lo dico io lo dice un altro uomo un dottore un pastore ma devi credere perché quelle dottrine tu le leggi nelle scritture ci sono nelle scritture capite è quello che bisogna credere perché una volta che tu capisci questo tipo di ragionamento alla fine nessuno ti potrà spostare dalla verità perché se se tu ti dice ah ma lo insegna Giuseppe lo insegna un altro viene uno che ti parla un po' diversamente magari con parole più belle ti convince e tu te ne vai ma perché perché ti eri appoggiato al discorso di un uomo e non alla parola di Dio se uno si appoggia e costruisce sulla roccia che è la parola di Dio è più forte nessun vento nessuna tempesta lo può smuovere non possono essere smossi ed è questo che io cerco di comunicarvi io vi do degli spunti di riflessione che voi dovete andare ad approfondire nella parola di Dio è lì che voi dovete far radice la radice profonda dove poi non vi smuoverà nessuno andiamo avanti fratelli e sorelle il cammino è lungo ancora è lungo non ci fermiamo ogni giorno la sua fatica fate ogni giorno quello che dovete fare e camminiamo ogni giorno la sua fatica la sua preghiera la sua lettura la sua evangelizzazione la santificazione quello che c'è da fare ogni giorno dobbiamo farlo e andiamo avanti un contadino ogni giorno fa quello che deve fare né di più né di meno se è tempo di seminare semina se è tempo di raccogliere raccoglie se è tempo di innaffiare innaffia quindi ogni giorno una sua cosa e andiamo avanti fino alla fine ci aspetta la vita eterna la gloria eterna capite questo è questo è l'obiettivo puntare gli occhi non sulle ricchezze di questa terra ma sulle ricchezze future quelle celestiche lì dobbiamo rimanere puntati e concentrati perché la vita eterna non c'è ma non c'è prezzo capite non c'è prezzo non c'è sofferenza che valga la vita eterna qualsiasi tipo di sofferenza la vita eterna è molto superiore quindi qualsiasi cosa stiamo passando qui sulla terra non è nulla in confronto alla vita eterna le gioie che avremo quando saremo giunti alla fine però per giungere alla fine dobbiamo vivere intensamente ogni giorno della nostra vita non guardiamo agli anni decenni guardiamo ogni giorno cosa ho fatto oggi cosa devo fare oggi capite quindi ogni giorno mettete il mattone costruitelo questa casa ogni giorno dovete costruire un pezzo così alla fine si troveremo una costruzione no? non lasciate andare ah lo faccio domani che cosa preghi domani e oggi? leggi domani e oggi? perché poi il domani poi porta dal dopo domani poi non si fa più non va bene non si fa più